Allora, quello che dobbiamo fare è trovare il nostro bastardo bot. Andiamo a Novagaron, a trovare quel balord. Ci siamo, Khan! Eccomi! Perfetto. Signori, andiamo a prenderlo col bastardo. Allora, fin qui tutto bene. Cosa è questo? Perfetto! Da che parte? Dobbiamo trovarlo, P.D. Sempre se è ancora qui. Ok. Non è da questa parte. Vale anche da questa. Aspetta. Dobbiamo capire come... Oltre quella parete laser. Già. Qualcosa mi dice che non è una base imperiale qualunque. fine SKU. Mi ha detto, non credo. giù ha... Non è altra cosa non c'è... Non è altra. Diciamo che lo voglio andare giù No no, no no Direi no Dovremmo trovare un'altra strada Ritorniamo lì e vediamo bene Vaffanculo Non ce ne ho pensato a queste cose Perchè in genere è verde? Non ce ne ho pensato a queste cose Non ce ne ho pensato a queste cose Non ce ne ho pensato a queste cose Ah sì? Vediamo Ancora nessun allarme Per motivi di sicurezza L'hangar è inaccessibile Fino a nuovo ordine Tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite Non ce ne ho pensato a queste cose Non ce ne ho pensato a queste cose Non ce ne ho pensato a queste cose Allora scusami qua Per motivi di sicurezza l'hangar è inaccessibile Fino a nuovo ordine Tutti gli arrivi transiteranno dalle piattaforme terziarie per ispezioni approfondite Non ce ne ho pensato a queste cose Abbiamo una porta Ah riposino che fai? Non te lo fai Va bene shortcut fatto Proseguiamo Per motivi di sicurezza l'hangar è inaccessibile Fino a nuovo ordine Chi ha visto? Non ci considerano dalle piattaforme Abbiamo agliato uno Ah! Oh quanto Nemico! È qui! Carico il blaster È troppo veloce Ok Ok ma dai non ti ho manco toccato massima cautela Bode non deve sospettare di niente non dà che curatori in questa fase non riesco a crederci Lord Vader e l'inquisitorio un terminale forse Bode è in archivio bene Bode è qui deve trovarsi negli alloggi degli agenti ehi tu splendido una lotta tra me capito sparo si forse possiamo fare oh un altro steam coppett che dobbiamo passare da qui ma che testa giunga Siamo gli occhi dell'infero Forza Siamo gli occhi Forza Insistiamo oh dai i Il design è veloce. Insistiamo! Solo un Jedi combatta così. No! Colpo confermato! Subisco danni e mi sei innebolito. Ehi, BD! Danni in BD! Libertario è veloce! Forse i nostri nuovi ospiti potranno coprire... BD! Oh, non pensare di fuggire! Stimuliamo il traditore! Manchi di precisione! Continui a scappare! Oh la diavola! Credi che fosse una trappola? Per arrivare a BD dobbiamo trovare il comandante della base. A tutta la parte di sicurezza! L'intruso si è dileguato! Riferire qualsiasi ammissamento al comando centrale! È possibile! No! Finisce che non volevo ammazzare. E qua ha shortcut di nuovo. Sì, vediamo dove mi importa. Buono! E qua, sono a bollo. Devo sgombrare la mente. No! 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 Grazie a tutti.